Incendio nelle prime ore di questa mattina ad Ascea Marina, in località Scogliera, ai piedi del Sentiero degli Innamorati. Intorno alle quattro è stata data alle fiamme, probabilmente con della benzina, una delle piattaforme in legno realizzate dal parco nei pressi delle grotte di località Scogliera. Ad accorgersi dell'incendio, il guardiano della ditta che gestisce l'area, il quale ha notato la presenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto. L'individuo sarebbe stato ripreso anche dalle telecamere di sorveglianza installate dal parco. Non è il primo episodio, anche nelle scorse settimane, infatti, altri atti di vandalismo sono stati registrati sul posto. A spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, prontamente intervenuti. Fortunatamente solo danni materiali, ma l'episodio desta comunque preoccupazione per un'area di particolare pregio ambientale e da poco valorizzata grazie ad un progetto dell'ente parco. Si dice rammaricato il sindaco di Ascea Pietro D'Angiolillo, che era giunto telefonicamente dalla nostra emittente, annuncia ulteriori misure di sicurezza con l'installazione di altre telecamere oltre a quelle del parco. Questi sconsiderati non la faranno franca, ha concluso D'Angiolillo. Alle parole del primo cittadino di Ascea si aggiunge la preoccupazione di Gabriele Palladino, amministratore della società che è in gestione l'area. Si tratta, dice Palladino, di un increscioso episodio che ci preoccupa. Nei giorni scorsi abbiamo subito anche dei furti. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania.